Intervista migliore in campo Roberto Di Lorenzo dei White Lions Partita avete vinto 4 a 1, quanto avete vinto? Sì, 4 a 1 Contro i SSC Vanaschie Complimenti, com'è andata la partita? È stata una partita difficile Se è portesente, porcaro può evitare di fare suggerimenti Il ragazzo sta a parlare Sento, aspettate, ho solo 5.000 euro di ammenda per i botti sentiti a me Perciò d'ammato è un credino Lui non ci serve Comunque Abbiamo giocato molto bene anche se la partita era molto difficile Molto difficile Senti, vuoi fare qualche ringraziamento? Ringrazio tutta la squadra perché penso che abbiamo giocato tutti bene e non sono io Complimenti, bravissimi Bravissimi, bravi ragazzi, bravi tutti Avete conquistato i tre punti importantissimi per la fase di giro Grazie A porcaro no, loro stanno sempre a zero Ah, ma porcaro, ma tu stai putendo le classifiche nelle interviste delle altre squadre Complimenti, è come il classico cacazzo Complimenti, ciao ragazzi Ciao, ciao